azione la rifacciamo c'è un incendio nel garage di Joe's Park e il grande normaschi è bloccato no, non era così non era così azione azione scusa, parlavi con me? no, così non va bene questo è l'incendio più grande che ci sia mai stato a Pontipandi almeno dal grande incendio di Pontipandi che io sappia Derek, premi il pulsante oh no no, aspetta eh sì, devo dirlo, adoro il mio nuovo Pullman Billis abbiamo un malfunzionamento del bestiario malfunzionamento del bestiario azione scusate, mi dispiace, ci riprovo scusate, non ce la faccio ricevuto Sam ricevuto Sam ricevuto Sam ricevuto Sam non ci sono molti altri modi in cui posso dirlo io vado a salvare Norman Price prima che i suoi pantaloni riducano in cenere tutta la foresta davvero è questa la battuta? oh, capita anche ai migliori eeeh, taglia! abbiamo finito per oggi, signori su, forza, chiama Sam il pompiere adesso arriva Sam il pompiere è uno di noi Sam è con te quando vuoi è un po' di noi 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 è un po' di noi